Spera che balli bene come ti vesti. C'è solo un modo per scoprirlo. Noi due non siamo tanto diversi. Agente Argyll. Un aiutino? Arriva. Il libro è fenomenale, tesoro, ma... Che succede dopo? È un finale sospeso, mamma. Ellie, si chiama Scappatoia. Wow, c'è un gatto lì dentro. Oh mio Dio, ma lei è Ellie Conway. Maltrizza della serie Argyll, Ellie Conway. Sono un super fan. Ah, sì? E lei cosa fa? Spionaggio. Mi firmerebbe il libro. Ci siamo. Adoro questo libro. Andiamo. Chi sono quelle persone? Sono vere spie. Perché sono interessati a me? Perché tu sei una cavolo di indovina, Ellie. Quello che hai scritto nel tuo libro è reale. Hai stuzzicato un bespaio di cui non sapevi niente. Sono in un grosso guaio, mamma. Oh, hai iniziato a fare uso di droga. Voglio tutte le risorse su di loro. Ho bisogno che lei scriva al prossimo capitolo. Perché io amo molto amore. Perché io amo molto amore. Dio, odio questo gatto. È ora che tu conosca il vero agente Argyll. Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio